Siamo con Federico Barbierato, direttore Ascom Padova e parliamo del Senato che ha cancellato la possibilità per gli agricoltori o farmer market di vendere al di fuori della propria azienda. Per voi è un ottimo risultato raggiunto? È un risultato che credo debba far felici tutti perché è un risultato che mette in luce che chi intende fare commercio di prodotti freschi, ortofrutticoli, mercati a chilometro zero, deve assoggettarsi alle regole del commercio. Non è più possibile avere due linee separate, due trattamenti diversi rispetto a una funzione commerciale che viene svolta dall'agricoltore o dal commerciante. Chi esercita attività commerciale deve essere soggetto alle stesse regole perché diversamente rischiamo di creare una concorrenza sleale, perché diversamente acquisce la crisi dei consumi e non fa chiarezza nemmeno per i consumatori rispetto ai prodotti di origine che spesso sono sì prodotti in minima parte magari dagli agricoltori ma spesso poi sono acquistati direttamente anche nei mercati e quindi le ananas noi abbiamo detto di Casalserugo non esistono ma non vediamo perché chi vende questi prodotti non debba essere soggetto alle regole del commercio. Questa è un po' la battaglia che abbiamo fatto in difesa di un commercio sano, equo, dove diciamo se qualcuno vuole fare commercio deve avere le stesse regole e non può avere scorciatoie o privilegi che non sono più giustificabili, tanto meno adesso che siamo in un periodo di crisi. Per voi commercianti con punto vendita fisso ci sono molte regole ma anche parecchie sanzioni nel caso in cui si sgarri? Purtroppo sì, noi siamo soggetti a controlli, a indicazioni sulla calibratura dei prodotti, sulla raccolta di fiuti paghiamo delle tasse salate e non vediamo perché gli agricoltori che esercono l'attività di commerciante non possono essere soggetti a queste normative. Teniamo presente che l'emendamento che per fortuna siamo riusciti a far respingere prevedeva un'organizzazione indiscriminata di mercatini a chilometro zero su tutto il territorio nazionale senza programmazione e quindi senza rispetto minimo di quelle tutele anche a garanzia del consumatore che invece per fortuna siamo riusciti a far emergere.